Grazie a tutti Lascia, vado io Padre! Padre, che succede? Buonasera, siamo qui a Luca Comics and Games 2010 Siamo qui per parlare del nuovo thriller Viato Production Che si chiama Erosho in Story di un eroe Purtroppo Lorenzo Nerozzi non è potuto venire perché è morto Quindi lo stai registrando? No, lo stai registrando, benissimo È di stato la lucina per fare l'intervista a Sgamo Ok, va bene Io a questo punto volevo fare un'intervista a Francesco Facitto e a Riccardo Fratelli Buonasera Buonasera, buonasera Buonasera, signor Francesco Sì, sì, buonasera E appunto, volevo chiedere a Francesco Facitto appunto Cosa si prova ad essere qui a Luca Comics? Cosa si prova? Si prova un'emozione fortissima, una cosa veramente favolosa Comunque, volevo sempre ricordare a tutti gli amici Che i nostri trailer si trovano anche su internet, su YouTube e sul sito www.atoflaccio.it Grazie, grazie Bene Riccardo Fratelli, volevo fare appunto un'altra domanda a Francesco Facitto Volevo sapere appunto Quando verrà proiettato il video sul palco, no? Vole sarete presenti a questa cosa? Sì, 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 saremo presenti Bene Grazie, grazie Bene, da Riccardo Fratelli e Giorna Tancicini è tutto a voi studio A dove la... Gesù, nella Divina Scuola di Acuto Buon applauso per Apple Production Grazie 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 Grazie